Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione Ma quando escono i tozzo? Il giorno è oggi Ma che cazzo? Signori avete visto chi c'è? Ronaldo record breaker, Suarez penso troppe volte in forma ma soprattutto Hazard eroe con tutti gli eroi tutti quelli scarsi ma soprattutto Hazard Ci sono i pacchetti da 15.000 K ma soprattutto quelli da 35.000 ragazzi il pacchetto mega dobbiamo trovare assolutamente qualcosa o qualcuno Farò pack opening fino a mercoledì fino a quando cambierà la squadra della settimana fino a che non troverò qualcuno quindi niente scuse questa volta Cominciate da subito a lasciare un bel pollicione in su e allora cominciamo ad aprirci i pacchetti da 15.000 crediti Vediamo un po' chi troviamo tra l'altro sbagliato per aprirli con i FIFA points Primo pacchetto, bella merda Rodriguez cinese Ce la vediamo, vediamo chi ci porta Alaba Tula Lan Ci avrà 47 anni Tula Lan Ancora gioca a pallone Ma si continua Si continua fino a che non troviamo Ilicicif Ci ho messo tipo un'ora e mezza a realizzare che era if va bene Diego Costa Buonissimo, buonissimo Diego Costa Perché il barbo non è doppione? Perché mi sa che io ho la versione 75 Decisivo ragazzi Torniamo i barbo upgradeato Torniamo sui pacchetti da 15.000 Dai ragazzi riproviamoci ancora Bel pacchetto di merda Non c'è nessuno Sfidiamo la fortuna Andiamoci a aprire il pacchetto mega Con i crediti normali Dio se mi ha fatto perdere 35.000 crediti Spacco FIFA Spacco FIFA Spacco FIFA Vabbè dai Magari per stavolta Non lo spacco Stavolta guardo voi Sto guardando qui Qui In questo Qui Un preciso punto Mi trema il dito Non so che ho trovato Capito Quando dici FIFA mi trolla In compenso mi ha dato 2.000 crediti Niente Che tristezza 4.000 crediti Vabbè Quando vedi che cominci a trovare tanti crediti nei pacchetti Capisci che non troverai mai un giocatore forte Mai proprio Ultimi Due Pacchetti Ultimi Due Pacchetti Mega ragazzi Capita che demo fa Abbiamo l'ultimo pacchetto ragazzi E' l'ultimo pacchetto della giornata Questo back opening per il momento L'importante Ci ha portato solamente I Rich GIF O SIF Non lo so Questo è l'ultimo Questo ce lo vediamo Questo ci porta Musilera Me ne vado ragazzi Non posso Che fare Un bel A te non hai diritto Neanche ad essere scartato Insieme agli altri Bene ragazzi Con i pacchetti Mega Finisce anche questo Pack opening Io vi prometto Che prima Della fine Del Della settimana Volevo dire Ma in realtà Prima di mercoledì Perché questa squadra Della settimana Ci sarà fino a mercoledì Sera alle 19 Vi porterò un altro Back opening Che forse Uscirà proprio Mercoledì Raga hanno messo I pacchetti Da 50 mila Crediti Quindi Sono 5 Io penso Che aggiungerò Questa clip A quella Di prima Spacchettiamo Ho sbagliato Quei crediti Va bene Proviamoci comunque Proviamoci comunque Guardiamoci l'animazione Se il buongiorno Ti vede al mattino Concentrati Apriamoli tutti Con Viva points Chellini Ma perché C'è il giocatore Pi' forte del pacchetto Chellini Altro pacchetto Schifiamo Dai Dai 100k Da sbustare I primi 50 Se ne sono andati Alex Dai Ultimo Pack Del giorno Questa volta Davvero Anche perché Poi non avrei Più tempo Per editare il video Ci vediamo l'animazione Poi siamo Il joystick Il giocatore è Dai C'è Voglio di A questo punto Finiamo I viva points Una altra volta Su questi da 15.000 Viva Grenier if Grenier if Ragazzi La seconda volta Lo trovo Lo trovo L'Uriani Non stavo registrando Per oggi È tutto Questa volta Arrivato Veramente Non come prima Non so adesso Come monterò il video Se unirò questa parte A quella di prima O se Dove rifare L'outro Che comunque Vi rifaccio Non è andata malissimo Ragazzi Chiaramente mi aspettavo di più Però comunque Abbiamo trovato due if Quindi Per il momento Vi invito a lasciare un like Un commento Ci vediamo al canale Noi ci vediamo presto Meri Ciao